Bene amici di Telefone.net stiamo girando questo video con iPhone 4S, fuoco continuo, avete visto un minimo di tempo per l'adattamento alle diverse condizioni di fuoco, non si può zoomare, risoluzione 1080p, proviamo un pan veloce, ora torno e mi fermo un attimo. Ripeto il video che stiamo girando con iPhone 4S a 1080p.